ciao a tutti amici creativi e benvenuti sul mio canale un grandissimo artista diceva che tutto ciò che si può immaginare è reale per me così tutte le mie creazioni nascono da un'idea racchiusa nella mia immaginazione che poi attraverso le mie mani prende forma oggi voglio presentarvi qualcuno dei miei lavori che ho realizzato in quest'ultimo periodo qualcuna di queste creazioni le avete viste nascere attraverso i miei tutorial mentre altre sono nate nelle mie ore di creatività solitaria oggi voglio rispondere a qualcuna delle vostre richieste nelle quali volevate vedere le mie creazioni ho un piccolo sito internet nel quale si può vederli però sono poche purtroppo perché come ben voi sapete noi creativi siamo bravi artisti ma veramente pessimi commercianti almeno per me così molto spesso mi trovo in difficoltà ad inserire le mie creazioni sul sito perché vorrei solamente crearle e non venderli quindi oggi vi propongo un piccolo estratto dei miei lavori spero che siano di vostro gradimento e se doveste essere interessati ad avere più informazioni sotto ogni mio lavoro si trova un numero utilizzando questo numero scrivetemelo qui sotto nei commenti sarò felicissima di darvi più informazioni vi ringrazio della vostra attenzione e sappiate che in ogni mia creazione è custodito un pezzo del mio cuore e della mia passione le mie mani creano con amore e mi auguro che possiate vederlo dai miei gioielli ciao a tutti amici creativi e buona creatività a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti